Ciao a tutti, siamo GameTrophy e oggi continuiamo con il continuo del video precedente, eccolo Ma sei un tipo di pato in faccia, no? Corri adesso Ma è cosa che fu più sbagliata Io sto cercando Ma sei scemo? No Nasconditi Dove? Non so dove, però nasconditi E' tipo a leva Sono otto E lo sa bene E lo sa bene Ma poi come stanzi i mano? E a me sono otto E si E' un po' uscire Vai levati Non mi ricordo la strada Non mi ricordo la strada Lui deve passare di qua Allora dritto Sì E poi Andiamo indietro Il problema è quando passa Prova dai ma la chiupata corri Basta che ce l'hai dietro Ma che vabbè a fa' cura allora Aspetta allora Poi è grosso 200 kg E ecco le più grosse che di me Dritto di là No 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 Noo Qui Poi li ha Se saltasse sarebbe molto Ma poi Si pianta lì Non si sposta Quanto siamo? 5-0 per lui Vai Perfetto Che cavolo Perfetto Ora se mi dici che sali Io ti tiro Ah ma qui siamo dove è prima Attento Non scendere Si si Passa prima di là Guarda se c'è Ma siamo Visto che si è aperta la porta Prima Guarda ti faccio vedere Ah poi è chiuso Ti faccio vedere Scendere qua Che ci deve essere la porta Ma poi c'è ancora la musica quella Tutto Tutto Comunque puoi risalire Guarda È la porta quella che eravamo prima Come fai rinvenitici Io non mi ce ne vengo in questa falla Di tanto in tanto Marcosina la prende Vi ricordo che è stata io che faccio Ce l'ho fatta Allora finisce il gioco E apri Che cazzo Ma il gioco finisce così Ci spappoliamo con l'ascensore E si muore Dopo essere sempre vissuti a Torture Mostri Ma poi invece di andare lì Ci porta sotto Allo sfondo Finisce e ritorniamo in su Cazzo E dove c'è mortale Cerco un'altra uscita E tanto quanto c'è Sabattaccio Speriamo che almeno Qua giunfondo Non ci sia nessuno Ehi Ma dove E che Ghiaccio È ghiaccio Ma dove cazzo siamo Un muro È ghiaccio Siamo tornati Siamo tornati dal polo nord Che è successo Telecamera Ora si viene a scoprir Filma questa roba Si viene a scoprir A parte Non sarà qualche Sana stanza Di sperimentazione Di qualche Chissà quale Mamma Della CIA Io sto filmando Però Firmiamo un po' Tutto in generale Si perché Se no Tanto tanto me lo scordo No Tavete Ti ho visto Aspetta che Qui c'è una scienza Fica sta roba Meglio qui che su Si La Marco Ah è perché Il progetto vorrà Hai visto Si Comunque Non è cosa Secondo di spirituale Secondo me è tipo Trove scientifica Non so Cioè Stanno creando qualcosa In mischiato Cazzo 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 Se troverai il mio cadavere Non fidarti nessuno E racconta la vita a tutti Non sono pazzo Lo so Lo so È proprio quello che Dicono tutti i pazzi Ma ti assicuro Che sono perfettamente Che sono perfettamente sano E? 40 Ah E ho 40 Hanno fatto una H Siamo in 4 E ho una videocamera Piena di prove Non chiamarlo Vangelo Non scherzo esattamente Il mondo deve sapere Che è tutta colpa Della Marco Devi serpellire Quei bastardi Sotto una montagna Di cadavere Immutilati Bello A questi Ho una telecamera Quindi siamo noi Le note sono tutte Del nostro mio Appunto Cioè Quindi lui sta pensando Che già Che stiamo morendo Che Prima o poi si muore Qui E qualcuno deve trovare Cioè Ha scritto come Se qualcuno Deve trovare Le sue note E E dirlo A tutti Abbiamo mandato Il documento Nel Dal diario personale Dottor Frank Stein Frank Stein Voglio metterlo Promete Di Mary Shelley Propriato Ma questo Era un libro E' stato Uomo Chi dai Quanto segnalato Tu Voglio metterlo Ok Oh 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 Vedi guarda Tiene pesate Vorrei Del project Si si Se non lo Che voglio Creare Barra Invocare Il World Rider Sproppolato Quindi Perché Vuol dire Che l'esperimento È andato bene Di avere Dicià che dovevi Pitch a play L'ascensore Play Un ascensore Che va sul play No è che Non è ascensore Tipo quella camera Di disinfestazione Passa Dicià Salvataggio Ah no Eh sì Luce Giù No Non torna Allora aspetta No ha fatto Il salvataggio Appunto Io ti faccio La sala Che ho fatto Il secondo L'ho acceso Io non l'ho visto Anch'io Io sono tutto Buio e basta Chi è l'olio È morto Infatti Morto modo Spappolato Spappolato Non ha più la testa Questo è il morto Del mese Guarda Facciamo due ripresi Perché Sennò Bisognerebbe fare La classifica Dei morti Sì Oh ma c'era una porta Blocco Qui Non era morto Non si era Non è una maniglia Blocco Aprile Questa Difendiamo Morphogenics In giant Fiji Chambers Chi è? Mamma mia C'è poco sani Con questo gioco Però Sì Sbudelano gente Sul tavolo Troppo bella Sta roba Ok Ok Per me lo collate di camera Tanto devo sempre riprendere Sì sì Infatti Bello Cazzo di sangue C'è Cos'è? Un verme Non è che lo stanno assemblando È un lego Che cazzo Io direi Dico Ma che cazzo Il ball drive Mi fa male Questo E se è lave la telecamera Non ti piglia Non lo vedo E mamma che cazzo facciamo Ma che cazzo Ma ti seguo ancora? Io sento la musica Scusate mi deve ammazzare Eh Lo sapevo Forse Non mi puoi più sfuggire Non mi puoi più sfuggire Ah guarda Mi sta salvando Scusate mi poteva ammazzare Poi mi sa Ehm Scappa Eh ma mi sono morto Guarda Ti vado Ti vado Mi fa muore Ma fa tutto smuore Guarda Fichissimo Se l'hai distrutto tutto Grazie Paolo Ma l'hai visto cos'era? Sì Era a forma umana Quella Metti un po' la nota Morte del soldato E' così che muori Fatto a persi da dentro Mentre guardi il tumidollo Che si spacca Contro un muro di cemento Sei sfuggito a un inferno Chris Walker Non so perché Ma spero proprio che non ricadrai In un altro Non ricadrai in un altro Spero proprio che non ricadrai in un altro Che dobbiamo Vai dritto di là Vai dritto di prima Sì Sarà riperto l'uscita Era il Vood Rider quello Sì Ma male si è aiutati Vai Di a destra Oh si è aperto Che è sta roba Questo lo so Tutto cazzo è bello Guarda questi C'hanno i mitra Noi lo prendo Era quelli che si rivedeva prima Che? Nella telecamera Però hai visto c'è un mitra lì Si è vero Il pirno Si è vero Il pirno Si è vero Se si allorano con i cosi Non è pericolo Non è pericolo Le macchine Ma da roba Il jetpack Il terreno ecco devo uccidere billy si sa che il porto d'italia non essenzia devi riparare il mio gioco perchè sarà avviso e nessuno potrà sciogliere qui devi ucciderlo è morto? ah no cerca di aprire il laboratorio principale il laboratorio principale qual è? perchè questo demente non piglia l'arma? perchè non mi apri? quindi abbiamo ottenuto un risultato simile nel 1944 pensavo di foto spirit ok vediamo manda da morire e qui si mette ma non lo abbiamo trovato quindi dobbiamo trovare billy quindi chiudiamo il gameplay qui quindi nel prossimo episodio troveremo billy quindi lasciate un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video grazie grazie